Torna dopo tre anni il presepe vivente di Custonaci. Dal 25 al 28 dicembre e dal 5 al 7 gennaio 2024, in uno dei luoghi più belli della Sicilia, torna la rappresentazione della Natività. Nella grotta Mangiapane si riviveranno gli antichi mestieri e le tradizioni della Sicilia di un tempo. Vendite online, circuito live ticket, oppresso la biglietteria aperta nei giorni e negli orari della manifestazione. 39esima edizione della Natività a Custonaci. Non puoi mancare! Non puoi mancare!